Per la seconda volta in occasione di forti temporali, l'impianto di sollevazione delle acque realizzato in piazzale Amendola al Lido non ha retto e la piazza, compreso il sottopasso ferroviario di Viale Carducci, si sono allagati di nuovo. Falimento? Soldi sprecati? Incompetenza? Non sono state poche le critiche che ci sono sollevate dopo l'ultima pioggia, specialmente i partiti di opposizione ne hanno fatto un valido motivo per attaccare nuovamente la Giunta. Questa mattina il sindaco Massimo Seri, insieme all'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e al dirigente Federico Fabri hanno spiegato che cosa è accaduto e quali sono i nuovi interventi che verranno eseguiti per efficientare il sistema. Non sarà trascurato anche il problema di via Pisacane, anch'essa soggetta a ripetuti allagamenti. È un progetto di grande visione di città, che nessuno si è mai permesso di intraprendere quella strada, perché a parole sono tutti bravi, ma le dimostrazioni sono nei fatti. Questa amministrazione si è presa l'onere e il rischio di fare un progetto per risolvere un problema che è lì da mezzo secolo. L'abbiamo sperimentato, come a volte accade quando ci sono delle complessità, alcune cose imperfezioni si scoprono quando si entra in funzione. La vasca funziona, le pompe funzionano e il lavoro per quello che è stato fatto bene. Quello che è emerso, è emerso che non riesce a raccogliere in tempo veloce la quantitativa di acqua con quella potenza, anche in quelle circostanze non si doveva allagare. Quindi un dato di fatto, io sono qui per questo. Le verifiche fatte hanno dimostrato che ad oggi la raccolta delle acque non è stata perfetta, nel senso è arrivata in ritardo. Ci sono state anche delle piccole cose, sciocche, come i manifesti che si sono scesi e hanno tappato le grate, ma significa ad ogni caso che vanno ampliate. E su questo si sta ampliando. Adesso, fatto questo, vedremo la capacità di ricezione, quindi per migliorarlo. Per via Pisacane si propone qualcosa? Via Pisacane è un altro problema noto, perché non è che, a parte adesso l'ultima volta, c'è stato un problema aggiuntivo che esplosa una fogna. Quindi ha creato ulteriore disagio e maggior raccolta delle acque. Lì c'è un progetto importante, milionario, perché lì parliamo di intervento grosso, di due estralci, su cui Aset ha già la progettazione, ha già fatto il suo percorso. Era un progetto inserito anche nel Pinqua, tra quei progetti finanziabili. Quindi, se si riesce ad avere questo finanziamento, si risolve nel medio periodo, perché sono comunque interventi importanti, altrimenti vanno con la programmazione e con la capacità economica e finanziaria che ha questo territorio.